Siamo tornati, come tutte le statistiche indicano, a qualche anno fa rispetto ai redditi e alle disponibilità. Nel frattempo le persone, molte, hanno paura di uscire, sono preoccupate, quindi non fanno acquisti. Così un'economia muore sia dal lato del commercio ma anche dal lato della produzione. La pandemia ha così messo letteralmente in ginocchio molte imprese, come emerge dalla fotografia di un anno di restrizioni imposte dall'emergenza Covid-19 scattata da confesercenti, un'istantanea dalle tinte più che mai fosche. Questo anno che è trascorso naturalmente è stata l'insegna delle chiusure, del lockdown, è stata l'insegna delle difficoltà naturalmente soprattutto per i commerci, i pubblici esercizi e per il turismo, lo voglio ricordare, di fare la loro attività. Quindi è una situazione drammatica che purtroppo continua perché non è che dopo passato un anno la situazione è migliorata, anzi. Dal primo lockdown del 9 marzo 2020 ad oggi in provincia di Arezzo è stata stimata una flessione di PIL pari ad 1 miliardo e 98 milioni di euro ed un calo di consumi per 822 milioni. Adesso quindi a preoccupare è la stima delle chiusure. Noi prevediamo che vi sia in provincia di Arezzo, si stima un'ottantina di aziende che chiuderanno il settore dell'abbigliamento e oltre 200-250 sui pubblici esercizi che non sopporteranno e non avranno la capacità di ripartire. Questa è la stima anche perché come abbiamo indicato non a tutti così. Naturalmente il rimborso medio è stato di 3 mila euro, se noi facciamo una media fra i 10 miliardi distribuiti e i 3 milioni che li hanno ricevuti si vede presto quant'è, quindi del tutto insufficiente a colmare una difficoltà che è grave. La Toscana infatti nel settore dei pubblici esercizi ha registrato addirittura 143 giorni di chiusura dopo l'Abruzzo con 146 totali e la provincia di Bolzano con 154. Si immagini cosa significa per il ristorante chiudere oltre 140 giorni come è avvenuto nel 2020 e come purtroppo avviene ancora oggi, se noi oggi andiamo in un ristorante non possiamo naturalmente andare a pranzo o a cena. Quindi questo pesa sui bilanci perché sono in parte, sì, c'è la cassa integrazione per i dipendenti ma naturalmente gli affitti corrono, le spese corrono tutte e quindi c'è difficoltà. Adesso il futuro è così appeso ai vaccini per l'associazione di categoria. Occorre tornare alla normalità, fare in fretta i vaccini e dimenticare questo passato da questo punto di vista. Poi ci insegnerà tante cose ma da questo punto di vista dovremmo poterlo dimenticare.